benvenuti amici di seili amici della barcolana amici della vela amici dei maxi a questo che ormai è diciamo un appuntamento tradizionale facciamo il talk del pomeriggio del dopo regata di questa barcolana maxi quest'anno barcolana maxi trofeo tivoli porto piccolo perché siamo nel bellissimo scenario di porto piccolo ho detto dopo regata in realtà oggi dopo senza regata nel senso che il day 1 di questa edizione è passato con la bonaccia e quindi non c'è stata regata però guardate che ospiti che abbiamo abbiamo tanti argomenti di cui parlare comincio da alberto leghissa che è il responsabile sportivo dello yacht club porto piccolo oltre a essere lo skipper di anyway sa filance uno dei maxi in regata una delle barche attese anche la barcolana naturalmente siamo nella settimana di vigilia della barcolana quindi ci arriveremo de ambassi è un personaggio della società velica barcola grignano in particolare il direttore sportivo della barcola grignano e quindi tante dietrologie intorno alla barcolana tanti insomma sei un uomo di apparato diciamo così della grande macchina organizzativa della barcolana nicola sironi quanto tempo che non lo vedevamo sugli schermi un grande personaggio della vela italiana tanta storia il vice capo stazzatore dell'orc e qui fa lo stazzatore quindi stazzi i maxi ora ci dirai un po di cosine segrete l'ultimo è giancarlo crevatin che è forse più importante di tutti perché intanto è il presidente del comitato di regata è un udr se udr internazionale tu giustamente è un udr internazionale è il presidente del comitato di regata barcolana maxi ma sarà il presidente di regata della barcolana 55 quindi insomma questo per presentare il parterre degli ospiti alberto parto con te e ti chiedo da skipper una giornata in mare senza regata insomma ti porta a terra un po scontento però tu arrivi a terra sei nel tuo club no sei nel tuo porto in qualche modo quindi la l'atmosfera di porto piccolo raccontiamo anche questo aspetto perché ospitiamo 12 maxi 13 quanti sono quest'anno iscritti un po più o meno come l'anno scorso e quindi descrivici un po il tuo feeling con questa regata il feeling questa regata è sempre splendido qui è un bellissimo porto un bellissimo borgo si sta molto bene lo yacht club è sempre molto ospitante e grazie anche tutti i collaboratori che c'ho e che mi danno un aiuto in questo sì si arriva a terra con un po di amaro in bocca perché si sperava in qualche regata però poi in realtà il vento era veramente così poco che è giusto aver preso questa decisione tornare a terra domani previsioni o aspettative speranze di bora c'è una bora in arrivo data per sicura praticamente addirittura è stata anticipata la partenza alle 10 quindi per chi seguirà questo talk prima avete l'informazione domani la regata il secondo giorno di regata inizierà alle 10 torno da te tra poco perché voglio parlare un po della tua barca siete tra virgolette orfani di mauro pelaschierca il timoniere titolare che stavolta tradisce trieste per andare a fare il glamour a saint tropez e invece chiedo a dean di parlarmi non solo di poi guardare la telecamera non guardare me ma di parlarmi non solo di questa barcolana maxi ma di come barcolana maxi si inserisce in questi giorni di vigilia calda della barcolana e la domanda in realtà ne contiene un'altra ci aspettavamo di vedere qui i maxi che poi immaginiamo saranno protagonisti domenica la barcolana quindi arca shockwave morning glory no che però non ci sono cioè non sono qui in regata alcuni hanno fatto il trofeo bernetti e secondo me c'è un motivo e forse tu ci puoi aiutare a scoprirlo diciamo che quelle barche che hai citato una ci sarà ci sarà giovedì quando faremo la terza prova di barcolana maxi che ricalca proprio il percorso della barcolana stessa quindi quel warm up di barcolana ci sarà e attirerà un po più di questi potenziali candidati alla vittoria anche soprattutto viste le condizioni che per ora sono previste diventa un po leggero che aprirà tanto le carte e sparirà i giochi ci saranno più possibilità di scelte tattiche diverse che anche barche con lunghezza lievemente inferiori possono candidarsi insomma alla vittoria e poi la domenica la barcolana richiede una macchina perfettamente oliata sia in termini di equipaggio che di termini di preparazione tecnica e le barche che hai nominato forse anche dovuto a una stagione un po particolare hanno bisogno di importanti fine tuning e anche con dei cambi di equipaggio importanti richiedono un certo affiatamento e magari non era ancora giunto il momento per calare aprire far vedere un po tutte le proprie carte quindi presumibilmente giovedì saremo ancora più barca mare e domenica poi vedremo la reale condizione di preparazione di tutti questi candidati alla vittoria. Quindi abbiamo scoperto che anche i maxi fanno pretattica non soltanto no gli allenatori certi allenatori di calcio salto un attimo Nicola vengo da Giancarlo Crevatin perché mi interessa questa cosa è stata si continua a prevedere ormai da dieci giorni una barcolana di vento leggero ci dobbiamo credere potrebbe succedere la sorpresa che invece il vento alla fine arriva sarà leggero 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 o comunque sarà una barcolana insomma da vivere e come la state preparando? Diciamo che la situazione di questa tardiva estate non depone certamente a favore di un sconquasso barico e quindi di condizioni di vento forte abbiamo imparato negli anni passati che anche in condizioni di tranquillità le condizioni possono cambiare e quindi magari domenica mattina ci troviamo con un bel borino che ci porta tutti quanti a fare una barcolana molto su di giri vediamo cosa è per il momento le condizioni sono quelle di poco vento quindi noi come comitato di regata abbiamo già studiato tutte le varie disposizioni dei mezzi per capire in caso di short come si dice quindi di arrivo alla prima piuttosto che la seconda boa o al cancello di Miramare chi deve mettersi là e chi deve prendere gli arrivi con la volontà però di portare la regata fino alla fine quindi arrivare tutti quanti in piazza unità perché sappiamo perfettamente che quella scena è una scena bellissima bello c'è ragione d'altra parte l'arrivo ridotto ci fu giusto un paio d'anni fa mi sembra proprio perché c'era pochissimo vento Nicola stazzare un maxi no perché insomma tu fai lo stazzatore ormai da tempo veramente da tanto tempo tanta esperienza come stazzare un maxi come sono i maxi che sono qui a questa edizione della barcolana maxi trofeo attivo li porto piccolo e se hai avuto difficoltà oppure tutto semplice com'è il lavoro qui questi giorni beh diciamo che il lavoro era stato preparato già da tempo per cui queste barche sono già note già archiviate nelle loro misure per cui si tratta di solo fare di controllare o di verificare le novità che sono state apportate vele nuove assetti nuovi appendici nuove e allora aspetta dici se c'è se hai scoperto che c'è qualcosa di nuovo visto abbiamo parlato di pretattica tra queste barche che hai visto tanto per non fare il nome visto che non abbiamo qui lo skipper ma anyway per esempio ha qualcosa di nuovo non ha niente di nuovo veramente noi i lavori grossi sono stati fatti negli ultimi due anni perché dopo il famoso disalberamento che è stato poi filmato in sembra un esperimento di laboratorio poi c'è stato un nuovo albero e tutto il grosso del lavoro è stato fatto in realtà l'anno scorso senti dopo io torno da te con l'ultimo giro di di domande ti devo fare una domanda di geopolitica della vela perché sta tornando l'admirals cap pensate un po tutti quelli che hanno diciamo mediamente più di 40 50 anni sanno di cosa stiamo parlando una volta era seconda solo la coppa america e poi è sparita è uscita di scena completamente così eutanasia allora quindi alberto dice cosa ha fatto any wave quello l'abbiamo visto abbiamo parlato di mauro per la schier che non c'è com'è l'equipaggio di any wave come tu sei proprio in questo punto incarni quello che dicevamo non fate pretattica stai facendo la barcolana maxi trofeo di porto piccolo e farai la barcolana con quale configurazione con quali prospettive ma guarda io sono dell'opinione che più si naviga più si imparano cose nuove della barca l'equipaggio si affiata sempre di più ed è vero che si può anche navigare in acque libere senza avere una competizione per avere l'occasione di avere una buona di partenza un comitato di regata avere delle regole ti porta molto più vicino e molto più concentrato nella regata che che ci aspettiamo di fare insomma come barcolano cose di questo tipo però la forza di anyway secondo me sta nel gruppo che coeso da ormai sette anni che navighiamo assieme che dopo il disalbero abbiamo comunque avuto modo di migliorare la barca ancora mi hanno cambiato un po di assetti grazie anche lavoro con con Nicola che ci ha dato dei supporti ci ha controllato e ha verificato che tutte le cose siano corrette secondo me siamo nella strada giusta infatti noi siamo dell'idea che le regate a rating vanno vanno svolte poi c'è anche la line of honor però in realtà io credo che è un rating che dia tutti la possibilità di vincere abbiamo visto nella giornata di domenica che abbiamo regatato con poco vento ha vinto un melges 24 non abbiamo fatto terzi quindi è un qualcosa che funziona funziona chi sarà il timoniere di any way va alla barcolana e mi tocca guidare a me un guidatore d'eccezione Deann quante barcolane ricordi di aver fatto da regatante o da organizzatore a diverso titolo guarda abbiamo un bellissimo chi verrà a fare le iscrizioni vedrà in società ci sono due pareti completamente piene del cero anch'io cioè quante edizioni ha fatto ogni singola barca ed è incredibile come tutti quelli che scrivono vanno a cercarsi sono in ordine alfabetico purtroppo con un font veramente da giovane in font veramente piccolo delle lettere e tutti si cercano io ho visto che il mio vecchio meteo con cui iniziato ne ha fatte tipo 21 quindi quella barchetta ha veramente una gran bella il tuo meteo ma senza di te o con te alcune con me alcune no o l'albero genealogico di tutti i proprietari posso dire io lo so posso dire il segreto di quel meteo quel meteo lui ci è andato in viaggio di nozze lo possiamo dire sì non lo sa quasi nessuno perché non nascondo molto ma è vero è vero è vero e nonostante questo sono vent'anni che siamo spesati quindi quindi andate sul meteo fate anche le vostre viaggi di nozze col meteo perché porta fortuna anche da quel punto si chiama si chiama stress test del matrimonio subito così come stress test di tante barcolane fatte abbio detto nicola che sta tornando l'admirals cup il rork royal ocean racing congress council ha deciso di rilanciare club ha deciso di rilanciare questa clamorosa storica regata che è un trofeo a squadre no che dal 1957 fino al 2003 e poi nel 2003 era sparita l'italia l'ha vinta nel 95 insomma croce delizio un po come la coppa america ci dici la tua versione da personaggio importante dell'ork che è un po l'alter ego del rork no poi tra l'altro orc significa ims scusami orc la stazza orc mentre rork significa irc e pare che questa nuova admiral si corre con l'irc come la vedi questa admiral se nuova beh è un ritorno alle origini in realtà il regolamento ior che è stato gestito che ha causato la nascita del rork offshore racing council si chiamava poi diventato congress era stato promosso dal dal rork che insieme agli americani del cruising club of america hanno deciso di di fondare e divarare una una regola unificata per per tutto il mondo che poi è andata avanti per per tanti anni e poi si è evoluta dallo ior che prende pochi punti si è passati all'ims poi all'ork che che descrive tutta la geometria della barca per cui richiede una scansione completa di tutti gli scafi ed è stata usata perché nelle ultime edizioni dell'adminal scapp c'erano le squadre che poi di edizioni in edizione cambiavano la composizione delle squadre ma c'è sempre stata almeno una classe che correva in tempo compensato perché quella è sempre la problematica che nelle acque inglesi poi diventa ancora più complicata perché ci sono le correnti e per cui ci sono gli tidal gates altri elementi da guarda è sempre affascinante sentirti parlare di queste cose hai detto delle cose che sicuramente da casa molti non stavano considerando magari rimanevano sulla superficie ti faccio un'altra domanda ancora più diciamo diretta su questa nuova admirals qualora mai si facesse dice che hanno ricevuto 20 manifestazioni di interesse da altre tante nazioni o yacht club eccetera potrebbe anche in qualche modo aiutare il mondo della yachting d'altura a unificarsi un po visto che c'è sempre questa diaspora questa divisione proprio tra irc e orc lo viviamo certe volte pure con due classifiche nella stessa regata in italia beh è un problema complesso perché in realtà no l'unità c'era da sempre nel senso che il rock stesso è stato uno dei fondatori dell'orca dello ior e poi degli ms e però al giro del secolo nel nel 2000 c'è stato proprio una una separazione unilaterale e che con noi dell'orca ci siamo sempre sentiti in difficoltà e ci sono comunque dei contatti dei tentativi per cercare di rimettere insieme le cose però il problema rimane rimane questa divisione fra il regolamento che cerca di valutare ogni piccola caratteristica della barca delle vele di tutto quello che può contribuire alle performance e l'altro regolamento l'irc che invece si basa sul segreto per cui la regola non è pubblica i progettisti non sanno e che è una reazione a quello che era stato lo sviluppo dello ior in cui i progetti andavano via via diciamo che speriamo la speranza c'è sempre la disponibilità soprattutto c'è sempre sentiamo la versione dell'armatore al volissimo orc o irc tu l'hai vissuti entrambi come li vedi io sono sempre stato un sostenitore dell'orc perché riesce a darti dei numeri diversi in base alle condizioni del vento in base alle andature il numero unico dell'irc può essere più semplice da comprendere però non essendoci variazioni tra meno vento più vento fondature portanti o di bolina secondo me è un po limitativo e magari indica già chi la può vincere la regata se trovi una regata tutta di bolina si sa che delle barche dislocanti che hanno un numero favorevole probabilmente la vincono altrettante volte invece in poppa che quando una barca plana come la mia ad esempio e si trova invece più svantaggiate le barche un po più pesanti quindi io credo che il sistema dell'orc che è un po più ampio e valuta tante altre cose ed è anche può essere compreso da tutti perché in realtà non ci sono segreti un segreto trasparente speriamo speriamo vediamo chissà che non succeda davvero un mezzo miracolo torniamo e chiudiamo con il nostro udr internazionale ti seguono magari questo filmato tanti tuoi colleghi udr nazionali o internazionali hai fatto una filiera federale di preparazione di formazione per diventare giudice per diventare anche udr internazionale però pensa quanti ti diciamo così ti invidiano ti ammirano ti sono preoccupati per te addirittura sapendoti che farai una partenza con 2000 barche tu l'hai già fatta comunque la barcona l'altro anno già eri mi sembra nel comitato quindi ci descrivi fare il presidente di comitato di una regata con 2000 barche io ho già fatto 10 edizioni come secondo con Dodi Villani che era il precedente PRO della barcolana siamo stati uno sul rimorchiatore uno sull'altro ci siamo visti l'ultima volta direi 30 minuti prima della partenza dopo siamo scomparsi uno da parte e uno dall'altra perché c'erano tante di quelle barche in mezzo e quindi ci siamo proprio telefonati e ha detto eh ti vedo ancora dopo un attimo non ci vedevamo più comunque sì è una è una regata che ogni volta che si parla qualcuno dice sei di Trieste due minuti dopo barcolana esce subito perché è una manifestazione unica esserla sulla linea di partenza per fortuna è una linea che è molto rispettosa perché i grandi solitamente non vogliono scoprirsi subito cercano di stare uno accanto all'altro ma non partono prima e c'è dopo quello piccolo che ha paura di farsi portare via dai grandi che tenta magari di partire prima però tutto sommato è lunga non ho ricordi particolari di affollamenti fuori dalla linea e ricordo noi spesso ufficiali ufficiali della nostra zona ricordiamo che una volta un richiamo generale è stato fatto sì erano in 700 ed era una ventina d'anni fa dopo ovviamente non è stato più possibile è un gran finale è proibito vero? è stato proibito dall'organizzatore è un gran finale cioè pensate noi diciamo spesso che le regate hanno una partenza o più partenza a seconda di quel che succede ma un arrivo solo ed è un giorno mi ha detto questa una partenza è un arrivo basta allora Giancarlo Crevati in comitato di regata qui a questa barcolana maxi trofeo Tivoli Porto Piccolo e anche comitato di regata della barcolana Nicola Sironi stazzatore ORC abbiamo parlato di gioia politica della vela De Ambassi il direttore sportivo di società velica Barco Lagrignano vi siete difesi molto bene con i vostri ragazzi giovani in questo settembre di regate federali giovanili anche classe olimpia quindi complimenti ottimo lavoro Alberto Leghissa che abbiamo detto un po' padrone di casa perché è direttore sportivo dello yacht club Porto Piccolo bellissimo questo porto bellissimo lo yacht club sembra di stare qualcuno l'ha definito della Porto Cervo del nord ma senza fare paragoni si sta benissimo no mi fa piacere piccolo perché il nome anche lo dice però bellissimo quindi grazie anche a te buon lavoro questo talk continuo ormai è una tradizione le regate dei maxi hanno questo talk accessorio domani anche con dei velisti domani pomeriggio anche perché si presume che ci sarà vento domani quindi state pronti stay tuned come si dice domani altro appuntamento maxi ciao a tutti